Ciao, mi rivolgo a te che ti sei arricchito speculando sui terremoti e sui disastri ambientali, che hai fatto affari con le grandi opere, Non votare potere al popolo. E a te che fai contratti ai tuoi dipendenti di due mesi in due mesi, che li fai lavorare di domenica, di notte, che li avverti con un messaggino su WhatsApp del cambio turno del giorno dopo, che alla prima occasione licenzi tutti quelli che possono creare problemi, le donne, chi ha una malattia, chi fa sindacato. Non votare potere al popolo. E a te che pensi che il fascismo sia una legittima opinione e non un crimine e vorresti vedere i migranti tutti a negare in mare. Non votare potere al popolo. Non ci votare perché siamo il tuo opposto. Se invece sei un lavoratore sfruttato, sei un precario, sei un pensionato che non arriva a fine mese, votaci perché viviamo le tue stesse condizioni. Perché noi lottiamo e lotteremo per un lavoro stabile e sicuro per tutti, per la difesa dell'ambiente, per il diritto alle cure, all'istruzione, a una pensione degna, perché vogliamo andare in Parlamento per restituire il potere al popolo. Grazie a tutti! Grazie a tutti.